Hashtag noi amiamo gli animali Levriero italiano, scheda razza Elegante e raffinato, come un vero nobile a quattro zampe sa essere In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a Quattro Zampe vi presenteremo una razza canina tra le più sportive, il levriero italiano Saprà essere dolce e affettuoso, ma anche energico e attivo soprattutto se il suo compagno di giochi è il padrone Ama la compagnia dei bambini, con i quali può correre e giocare le due attività che adora di più Si adatta facilmente agli spazi di un appartamento di città ma l'ideale sarebbe una casa in aperta campagna Ottimo come cane da compagnia, non è un buon guardiano perché è socievole e vuole sempre fare amicizia, anche con gli estranei Si riconosce per la testa longilinea tenuta su da un collo lungo un tartufo nero, occhi grandi a mandorla e orecchie con attaccatura alta Il pelo è lucido e corto, ma morbido al tatto basterà spazzolarlo una volta a settimana per garantirgli pulizia e igiene La vera particolarità è il colore del suo manto che può assumere varie colorazioni e sfumature dal rosso fulvo al nero, dal sabbia al blu al marrone chiaro giallo, grigio ardesia e grigio La sua alimentazione deve essere adattata alla sua età e al suo stato fisico meglio ancora se si tratta di crocchette Non bisogna esagerare con le porzioni anche se il suo stile di vita attivo e dinamico lo aiuta sicuramente contro il rischio di sovrappeso Sebbene non vi sia il rischio di obesità è soggetto ad alcune malattie come l'epilessia malattie della retina, tartaro e l'ossazione della rotula È opportuno quindi tenere sotto controllo la sua salute con controlli periodici dal veterinario Per questo video è proprio tutto Se volete conoscere tutte le curiosità, i cenni storici e il padrone ideale dell'ebriero italiano cliccate sul link dell'articolo corrispondente Ma non solo Volete maggiori approfondimenti? Scopriteli sempre nel link che trovate qui sotto Anche voi avete un lebriero italiano o vorreste adottarne uno? Fatecelo sapere nei commenti E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di amore a quattro zampe Ciao ciao!